Benvenuti in questo nuovissimo video oggi veramente il mercato è super ribassista guardate la tutte le criptomete quasi tutte in rosso quindi non ne mordiamo ragazzi oggi è un giorno felice andiamo a prendere un airdrop totalmente gratuito ragazzi quindi sopperiamo a questo mercato delle cripto prendiamo in maniera gratis oggi attraverso questo idro potete ricevere esattamente 250 cripto nede ad altissimo potenziale in maniera totalmente gratuita quindi andiamo a prendere subito andiamo a realizzare il progetto mi raccomando come sempre lasciate un like iscrizione e campanella per supportare il video allora ragazzi questo è un nuovissimo sito veramente nuovo si parla di pochissimi giorni in barra qualche mesetto massimo un mese si chiama Crypto Hunter ragazzi il nuovissimo gioco basato sui nft metaverso all'avventura con le cripto il primo gioco nft a cui puoi davvero giocare il tuo tempo apprezzato quindi sarei ricompensato sia di token che nft quindi i ragazzi ci dicono esattamente che regalano token ragazzi in modo gratuito e regaleranno nft quindi tanta tanta robetta ok qui ragazzi è la roadmap quindi siamo ancora in fase 1 siamo nella vendita privata del tuo che ragazzi in modo totalmente gratis c'è il live che sarà distruito il 15 gennaio quindi fra pochissimo vedremo se risulta scam non che live sarà distruito il 15 gennaio c'è la vendita privata al pubblico ragazzi c'è il listing delle parti tra listing nella loro cripto neda c'è il pvp c'è la nft ma nft farming c'è pvp quindi entro febbraio 2020 dicono che dovrebbe partire il tutto ok questo è il tuo che una ragazza che prima praticamente come suddiviso la loro cripto neda in liquidità questo è per acquistare ragazzi i cacciatori tutto il resto che sono tutti i loro co fondatori ufficiali ci mettono nel viso quindi siamo un progetto fatto bene questi sono tutti i loro partner questo ragazze per acquistare i vostri c ht sul panche su pancake ovviamente non lo fate mai e che sono tutti i loro social alla prima cosa di ragazzi ovviamente sono siti nuovissimi sono siti ad alto rischio nel senso che possono risultare scam quindi mi raccomando tutti quei video che faccio vedere dei progetti nati da pochissimo non acquistate mai token del genere perché possono risultare scam anche se questo ragazze a dire la verità non vi invita ad acquistare nulla ma vi dici solamente qui in alto a destra riprendendo in modo gratuito ho provato in tutti i modi a vedere se c'è qualcosa per piano a parte qui sotto per acquistare quindi non ti invogna ad acquistare c ht quindi in alto positivo che quando l'azienda ragazzi ti invoglia ad acquistare un token state sempre alla larga perché ovviamente può risultare scam è abbastanza nuovo quindi mi raccomando ragazzi prendetelo solamente in maniera gratuita la cosa principale ovviamente quando porto nuovi ai group e nuove piattaforme del genere l'importante è capire questo poi ognuno faccia di testa propria detto questo ragazzi questo è il gioco basta connettere metamask dentro il nostro portafoglio basta connetto una volta ovviamente quando il gioco partirà sul mercato se qualcuno interessa fallo ci sarà il portafoglio ragazzi dedicato con tutte le scremature col viene viene tutto il resto ma a noi ci interessa ovviamente prendere l'ail drop totalmente gratis cosa fare basta semplicemente ho ritrovato il link alla descrizione tutte e due le cose basta semplicemente ci dice unisciti al nostro programma ai gruppi per ricevere gratuitamente 250 c ht gratuito quindi basta cliccare qua iscriviti adesso una volta che fate qua mi arriva questa pagina e attualmente ragazzi scade tra nove giorni quindi il 15 gennaio sarà distruito nel poi nei prossimi giorni live dopo in maniera gratuita perché vi faccio vedere questo idro per grazie che secondo me è uno dei più promettenti all'interno del mercato nell'ailer perché vi ho fatto vedere ovviamente se non risulta scambio risulta scambio ragazzi abbiamo perso cinque minuti nella nostra vita attualmente ci sono un sacco di persone dentro perché ci sono un sacco di persone dentro perché sta veramente spopolando questa notizia sta veramente spopolando come altro perché da 250 ripotoneta in maniera gratuita ricordo ragazzi 250 le dà a ogni giocatore quindi se voi vincete avete fortuna quindi mi raccomando sarete vinto il 15 gennaio scrivete nei commenti ho entrato in gruppo taglia me lo dite così si festeggia e ci dicono ragazzi che se completi tutte queste tasche più chance per vincere questi 250 c ht in modo totalmente gratis completore nel 2022 quindi cosa succede io vado qua ragazzi vi lascio il link descrizione follow 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 retweet faccio tutte queste operazioni gli danno tutti questi punti ragazzi per entrare e poi una volta che avete fatto tutti questi punti di sbloccherà ragazzi a 310 modi per entrare quindi ci sono una marea l'ho fatto prima ci sono una marea ragazzi di cose da fare tipo follow aree di qui e di là entrare sul entrare ci sono dei codici che danno su terra un sacco di cose quindi ovviamente più ci state dietro a questa piattaforma è più sbloccate tutte le cose ovviamente non lo fate tutte le ricette la vita lo provate alcune proviamo ragazzi tante volte le link più sblocchiate tutta roba più che avete possibilità di vincere queste 250 c ht sempre ovviamente se non risulta scan su un progetto sicuro di solito ragazzi anche se risulta scan e i c ht arrivano però poi bisogna vedere se si possono tre dare listare e tutto il resto quindi una volta ho completato questo che arrivano 250 c ht dopo il 15 gennaio la cosa fondamentale da capire ragazzi di questi 250 c ht che è una criptoneta ad altissimo potenziale quindi una criptoneta ragazzi che è nata da pochissimo quindi se pur da casa questa criptoneta salirà non so quanto verrà a un euro anche poco più avete 250 euro veramente in modo gratis se sarà un progetto che sicuramente vi ricordo questi progetti rinventi possono salire alle stelle avrete un sacco di soldi da parte quindi mille vincitori vinceranno questa cosa quindi buon per loro ok questo progetto questo è come funziona il tutto ora cosa c'è da dire ragazzi l'ennesima volta mi raccomando fatelo tutto in maniera gratuita la cosa più importante da capire io attraverso questi video che vi faccio oggi parlo sinceramente attraverso questi video che vi faccio ragazzi è per opportunità totalmente gratis però tante gente tante aziende come questa nascono solamente per prendere soldi quindi scappare con il malloppo risultare scam io ogni video quando vi porto aziende simile come i drop simili viene apporto non tanti un poveri apporti di drop che vi piacciono ovviamente anche a me piace prende in maniera gratuita possono risultare scam quindi per l'ennesima volta ragazzi mi raccomando non investite nulla se avete qualche dubbio domande c'è sempre il nostro gruppo terra ma che non si scrive cioè non si scrive tante persone ma vedo un sacco di commenti io nei commenti su youtube non possono rispondere quindi mi raccomando ragazzi entrate nel gruppo telegram ne trovate in descrizione su youtube c'è sia il gruppo telegram da da quelli per linkare solamente quello che non potete scrivere poi c'è quello che potete scrivere e a fare tutte le domande che volete se avete qualche dubbio anche in altri video basta entrare nel gruppo terra e rispondere e rispondere immediatamente ok grazie per aver seguito come sempre mi raccomando lasciate un like iscrizione e campanella per supportare il video nulla quindi ragazzi come sempre scrive sul gruppo terra e ci piacchiamo al prossimo video nulla ciao alla prossima let's go ciao